Musica 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 Siamo qui in Valhichat Porte, non so come stai con la voce. Qua sera ora? Quattro. Quattro. Quattro a 27? Hai, hai, hai. C'è la camera? Eh? C'è quello? We're going up! Andito na kami sa barco. It will take 3 hours to arrive in that house. They are so excited! We're now starting to save. Doon ang punta namin. Doon ang barinture. Yeah! Rock and roll! We're going to take a take on barco. Good morning! Good job. Good job. Good job. Good job! Good job! Musica Sì, questo è il nostro portone di un barco, è bello, è bello! e 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